La temperatura si attacca all'asfalto Belli, eh? Ben Non c'è problema Non c'è problema Non c'è problema Dove nascono i funghi D'aglio Quello laggiù Del monte Porreio Porreio Bello Questa si chiama ripresa Filmami il sangue Bravo Fabrizio Ok Questa si chiama ripresa Beh, ti va de mio a il mio giallo con i fiori carmo e il telecamera numero 1